è vero che insomma la cocaina era già a casa di morisi ok quindi voi avete portato solo il ghb a ok quindi è stato alexandra a portarlo insomma nel ghb non era in casa di morisi questo è il punto non era in casa di morisi ok ho capito quindi non ho visto lì sul tavolo a quando ok quindi tu dici può anche averlo portato alexander tu non lo sai sai solo di averlo visto già sul tavolo qui lì in casa ho capito quindi non sai ma scusa morisi vi ha dato via lasciato delle sostanze suppesacenti della droga cioè ve l'ha lasciata sì o no con dentro la boccetta di ghb ok tu sai solo che non l'hai portata ho capito quindi materialmente però a te morisi non ha dato niente morisi neanche vi ha ceduto vi ha dato cocaina ma ne aveva tanta alexandra ha detto che se ne ha consumata tanta ok ma parliamo di poteri stimarla due tre grammi quattro grammi non lo sai ma alexandra a un certo punto tra i messaggi si legge abbiamo noi portiamo la g no che starebbe per ghb quindi tu questa cosa non la sapevi ok ma sarà stata mica la prima volta che la vedevi ok cioè tu dici quindi tu di solito non la porti con te durante ok ho capito per fin'altro sono stato sottotitore sono passato per protettito modello esco tutta resa sono stato sottotitore no